Salve a tutti, qui Francesco De Carlo. Volevo mandare un messaggio per la giornata della statistica e dire che la statistica è fondamentale anche nella mia vita. Innanzitutto ricordo un 27 all'esame di statistica all'università a scienze politiche che alzò la media di una carriera accademica piuttosto zuppicante, almeno fino a quel momento, ma soprattutto oggi è fondamentale la statistica perché è fondamentale avere degli strumenti seri e affidabili per capire la realtà, per capire quello che ci sta succedendo, soprattutto in giorni così incerti come quelli che stiamo vivendo. Quindi grazie davvero a tutti e viva la statistica!